Con questo tutorial vediamo dei problemi sulle progressioni aritmetiche. Partiamo da questo esempio. La somma dei primi n termini di una progressione aritmetica è 77 radice di 3. Il primo termine vale 2 radice di 3, mentre il termine ennesimo vale 20 radice di 3. Quanto valgono la ragione ed n? In questo problema conosciamo la somma dei primi n numeri, che è pari a 77 radice di 3. Conosciamo il primo termine e l'ultimo termine. Per determinare n sarà sufficiente applicare la formula della somma dei primi n numeri in una progressione aritmetica, perché conosciamo Sn, A1 ed An. Sostituiamo i valori numerici e adesso risolviamo questa equazione. La prima cosa che vado a fare è dividere tutto per radice di 3. Sommo poi 2 con 20 ed ottengo 22 diviso 2, che è pari a 11. Dividendo tutte e due i membri per 11 si ottiene che n è uguale a 7. Ora andiamo a calcolare la ragione di questa progressione. Possiamo applicare la formula che mi lega il primo termine con l'ennesimo termine in una progressione aritmetica. Infatti An ed A1 li conosciamo, n lo abbiamo appena determinato e allora possiamo calcolare d. Sostituiamo ad An 20 radice di 3, ad A1 2 radice di 3 e poi, essendo n pari a 7, 7 meno 1, scrivo 6. Risolvo allora questa equazione. Dopo aver portato 2 radice di 3 a sinistra, ottengo 18 radice di 3 uguale a 6d. Divido poi tutte e due membri per 6 ed ottengo che la ragione d è pari a 3 radice di 3. Calcola il numero dei termini e la ragione di una progressione aritmetica di cui si sa che il primo termine vale 1, il secondo estremo vale 19 e la somma di tutti i termini è 70. In questo problema conosciamo il primo termine che vale 1 e l'ennesimo termine, ossia il secondo estremo, che vale 19 e poi sappiamo che la somma di tutti i termini è 70. Per poter determinare n possiamo applicare questa formula, la somma dei primi n numeri, in una progressione aritmetica, perché Sn, A1 e An li conosciamo. Sostituendo i valori risolviamo questa equazione. A conti fatti otteniamo che n vale 7. Per determinare ora la ragione d di questa progressione possiamo applicare la formula che mi lega il primo termine con l'ennesimo termine. A n lo conosciamo, A1 lo conosciamo, n lo abbiamo appena determinato. Sostituendo i valori otteniamo questa equazione da cui si ottiene che d è uguale a 3. L'età di 5 fratelli sono in progressione aritmetica, il minore ha 7 anni e il maggiore 19. Quanti anni ha il fratello di mezzo e gli altri 2? Per risolvere questo esercizio schematizziamo con A1, A2, A3, A4 e A5 l'età di questi 5 fratelli. Sappiamo che il minore ha 7 anni, mentre il maggiore, che sarà 5, ne ha 19. Per risolvere questo esercizio dovremo applicare la seguente proprietà. Due termini sono equidistanti rispetto a un termine se hanno la stessa distanza da esso. Fissiamo l'attenzione sul termine A3. Osservo che il termine A1 e il termine A5 hanno la stessa distanza dal termine A3, allora vuol dire che sono equidistanti. La distanza che c'è tra il termine A1 e il termine A5 è pari a 12. Basta fare 19 meno 7 e allora dividendo per 2 questa distanza sappiamo che A3 disterà A6 da A1 e da A5. Ricordiamo ora che questi termini sono in progressione aritmetica, ossia la distanza che c'è tra A1 e A2 è uguale alla distanza che c'è tra A2 ed A3. Fisso ora l'attenzione su A1, A2, A3. Il termine A1 e A3 sono equidistanti da A2 e allora vuol dire che se divido per 6 questa quantità otteniamo la ragione D, che sarà pari a 3. Vediamo se il ragionamento funziona. 7 più 3 ottengo 10 e allora sarà il termine A2. 10 più 3 ottengo 13 e sarà il termine A3. Lo stesso ragionamento che ho fatto qui lo faccio qui e allora vuol dire che a 13 devo aggiungere 3 ottenendo 16 e 16 più 3 ottengo 19 e quindi mi torna tutto. E allora l'età del fratello di mezzo è pari a 13 mentre gli altri due fratelli hanno 10 anni e 16 anni. In una progressione aritmetica i primi n termini sono tale che i due estremi sono opposti. Determina la somma Sn. Consideriamo una generica progressione aritmetica da A1 ad An. Sappiamo che i primi n termini sono opposti, ossia A1 più An è 0, A2 più An-1 è 0 e devo determinare la somma Sn. Mi trovo ora di fronte a due casi, quando i termini sono pari o quando i termini di questa successione sono dispari. Analizziamo per prima il caso pari. Essendo i termini opposti, allora vuol dire che se sommo A1 con An ottengo 0, allora A1 con An danno 0. Se sommo A2 con An-1 anche questi sono opposti e la loro somma sarà sempre 0 e così se sommo A3 con An-2 ed ottengo di nuovo 0. Essendo i termini pari si semplificherà tutto quanto e la somma di questa successione sarà pari a 0. Analizziamo ora il caso in cui i termini di questa successione sono in numero dispari. Come nel caso precedente, A1 più An sarà pari a 0 e allora questo lo semplifico con questo. Se poi sommo A2 con An-1, visto che i termini sono opposti, otterrò di nuovo 0 e questo varrà per tutti i termini escludendo il valore centrale che sarà pari ad An più 1 diviso 2. Ora devo andare a vedere quanto vale An più 1 diviso 2. Per far questo devo determinare una serie di relazioni. So che il termine ennesimo è uguale al primo termine più An-1 volte d, ma so anche che se sommo A1 più An ottengo 0. Ora in questa relazione, al posto di An, vado a scrivere A1 più An-1d, ottenendo questa nuova quantità, da cui posso andare a esplicitare il valore di A1, ottenendo che A1 è uguale a meno N-1 mezzi d. Ora, a partire da questa formula, determino la relazione tra il termine medio e il primo termine. Utilizzando questa relazione so che il termine An più 1 mezzi sarà uguale al primo termine più N più 1 mezzi meno 1 per D. Ora, al posto di A1, vado a sostituire questa quantità e qui esegui i calcoli. Avendo ottenuto due quantità opposte, deduco che il termine di mezzo è uguale a 0. Sapendo ora che il termine di mezzo vale 0 e i termini estremi di questa progressione sono sempre opposti tra di loro, posso dedurre che anche in questo caso la somma viene 0. Calcola le misure dei lati di un triangolo rettangolo sapendo che appartengono a una progressione aritmetica la cui ragione è 6. Consideriamo un triangolo rettangolo e sappiamo che i lati di questo triangolo sono in progressione aritmetica pari a 6. Allora possiamo indicare con x il cateto minore. L'altro cateto sarà uguale al cateto precedente più 6 e quindi scrivo x più 6 ed infine l'ipotenusa sarà uguale a x più 6 più 6, visto che sono in progressione aritmetica e scrivo x più 12. Ora, per determinare il valore di x, applico il teorema di Pitagora. Scrivendo cateto al quadrato più cateto al quadrato deve essere uguale a ipotenusa al quadrato. Risolvo ora quest'equazione. Dopo aver sviluppato i quadrati di binomio e semplificate l'x quadro riscrivo l'equazione in forma canonica. Applicando la formula risolutiva ottengo due valori, 18 e meno 6. Essendo x il valore di una lunghezza, il valore meno 6 lo dobbiamo andare ad escludere e questo significa che il cateto minore varrà 18. Ricordando poi che gli altri lati sono in progressione aritmetica di ragione 6, varranno allora 24 e 30. In un triangolo le misure degli angoli sono in progressione aritmetica e un angolo misura 100 gradi. Calcola la misura degli altri angoli. Abbiamo disegnato un triangolo avente un angolo di 100 gradi. Allora vuol dire che questo triangolo è un triangolo ottusangolo. Essendo un triangolo ottusangolo posso dedurre che gli altri due angoli devono essere necessariamente acuti. Indicherò gli altri due angoli con x e con y. Visto che la somma degli angoli interni in un triangolo deve essere 180 gradi e quest'angolo è di 100 gradi, certamente la somma di x più y deve essere uguale a 80 gradi. Sappiamo inoltre che questi tre angoli sono in progressione aritmetica. Indichiamo con a1, a2 e a3 i termini di questa progressione aritmetica. Il termine a3 dovrà essere necessariamente uguale a 100 gradi. Questo perché, essendo un triangolo a cutangolo, questi due angoli x e y dovranno essere necessariamente i minori di 100 gradi. Suppongo ora che x sia il termine a1 e y sia il termine a2. Questi termini sono tra di loro in progressione aritmetica, ossia se a x aggiungo la ragione d ottengo y e se a y aggiungo la ragione d ottengo 100. Posso allora scrivere che x più d è uguale a y e y più d è uguale a 100. Se adesso considero quest'altra relazione, ottengo un sistema in tre equazioni in tre incognite che vado a risolvere. A partire dalla seconda equazione esplicito il valore di y che vado a sostituire qui e qui. Da questa relazione determino il valore di x in funzione di d andando a scrivere 100 meno 2d. Siccome che x più x è uguale a 2x, al posto di x vado a sostituire 100 meno 2d e da questa equazione posso determinare il valore di d che è pari a 40. A questo punto sostituendo qui e qui ottengo il valore di x e il valore di y. E quindi deduco che gli altri due angoli varranno 40 gradi e 60 gradi. Vediamo quest'ultimo esempio. Calcola le misure dei lati di un triangolo rettangolo di perimetro 96 cm sapendo che sono in progressione aritmetica. Di questo triangolo rettangolo so che il perimetro è uguale a 96 cm. Indicando con x e y le misure dei cateti e con z l'ipotenusa posso andare a scrivere che x più y più z è uguale a 96. Essendo questo un triangolo rettangolo allora vale il teorema di Pitagora ossia cateta al quadrato più cateta al quadrato uguale a ipotenusa al quadrato. E allora scrivo che x quadro più y quadro deve essere uguale a z quadro. So infine che questi tre lati sono tra di loro in progressione aritmetica e allora posso dire che la somma di questi tre termini della progressione aritmetica è uguale a 96. Sfruttando la formula con cui è possibile calcolare la somma dei primi n termini in una progressione aritmetica allora posso andare a scrivere che x più z diviso 2 per 3 è uguale a 96. Sto supponendo che x è il primo termine della progressione aritmetica e questo vuol dire che x deve essere il cateto minore, poi più an, l'ultimo termine della progressione, e sarà uguale all'ipotenusa, poi diviso 2 e poi moltiplicato il numero dei termini che sono 3 e la somma deve essere uguale a 96. In questo modo ottengo un sistema in tre equazioni in tre incognite che vado a risolvere. A partire dall'ultima relazione moltiplicando tutte e due i membri per due terzi si ottiene che x più y è uguale a 64. Esplicito il valore della x e vado a sostituire nella prima equazione ottenendo in questo modo il valore della y. Ora andando a sostituire qui 32 e al posto della x sempre 64 meno z ottengo un'equazione in z che risolta mi da z uguale a 40. Una volta determinata z andando a sostituire qui otteniamo il valore della x che è pari a 24. ed otteniamo allora che il cateto minore è pari a 24 cm, l'altro cateto 32 cm e l'ipotenusa 40 cm. E con questo termino il tutorial sui problemi con le progressioni aritmetiche.